Il Comune di Napoli è indissesto, dicono dal Movimento 5 Stelle, e a certificarlo ci sono le pronunce della Corte dei Conti. Questo il contenuto della lunga conferenza stampa tenutasi al quarto piano di Via Verdi, in cui il Movimento 5 Stelle al Comune di Napoli, rappresentato dai due consiglieri Matteo Brambilla e Francesca Menna, con accanto il deputato grillino Roberto Fico e la senatrice grillina Paola Nugnes, ha rappresentato la situazione del bilancio comunale, nonché la situazione in cui versano sia l'azienda napoletana Mobilità che l'azienda ABC. Il nodo politico vero, che è il primo anno dell'amministrazione De Magistris, è dato dallo scontro Re Alfonso, assessore al bilancio all'epoca, e De Magistris. Alla fine è esaltato Re Alfonso, ma Re Alfonso diceva che in queste condizioni non possiamo andare avanti, praticamente dobbiamo dichiarare il distesto finanziario. De Magistris lo mando via e oggi ci troviamo nella stessa situazione, però peggio. Quindi l'operazione De Magistris, dal punto di vista del bilancio, non ha dato i suoi frutti perché il trend è negativo. Noi come Consiglio Comunale, in quest'anno e mezzo, sono stati presentati a questo punto, si può dire, dei documenti, diciamo, diversamente veri, usiamo questo termine, cioè i due bilanci 2015-2016 erano falsati da un disavanzo di un miliardo di euro. Ci è stata presentata una rimodulazione di un piano che non poteva essere fatto con quelle indicazioni, ci è stata raccontata una realtà che alla fine i conti dicono che sia diversa. La cosa che più ci rattrista come cittadini nelle istituzioni appunto che paga il prezzo la città di Napoli, quindi i servizi non ci sono, perché è paradossale questo, cioè il Comune ha speso dei soldi che non poteva spendere, però non è che questo ha comportato un miglioramento dei servizi, cioè i servizi sono allo sbando, nonostante il Comune abbia potuto spendere dei soldi senza poterli spendere facendo gli artifici contabili, quindi siamo al doppio fallimento, cioè un fallimento contabile e un fallimento politico.